Un punto assolutamente guadagnato da questo picierno? Un punto guadagnato con il sacrificio oggi in mezzo a una battaglia vera, abbiamo vestito panni un attimino più operai nella giornata di oggi e questo è sinonimo anche di crescita, in un percorso nuovo, assolutamente su tutti i punti di vista, la crescita passa anche attraverso questo tipo di prestazione, saper capire che sacrificarsi anche sotto palla qualche volta ti fa portare a casa dei punti e ripeto, all'interno della partita vanno analizzate anche 3-4 possibili ripartenze che avremmo dovuto gestire meglio e forse avremmo potuto anche fare di più, per come il mio modo di pensare, forse non in modo meritato, però le assicuro che nelle precedenti quattro partite che ci hanno visto protagonista abbiamo subito partite o sconfitte o pareggi dominando il gioco, quindi conosco bene quale può essere il rammarico dall'altra parte, quindi oggi siamo stati un po' noi, i calciatori, la squadra e lo staff che ha approfittato del dominio degli altri per provare ad andare in ripartenza. Ha detto in conferenza stampa che è forse la gara in cui si è corso di più. Sì, perché io intendo che le corse senza palla sicuramente sono quelle che ti fanno soffrire di più perché poi è meglio avere la gestione del pallone che rincorrere agli altri senza. Sì, abbiamo corso di più perché l'Andrea ci ha mosso bene, perché il loro rombo ci ha dato particolari grattacapi, questa soluzione tattica non è imprevista, ma quando ho visto la distinta ho capito che il mister Cudini aveva cambiato qualcosa, ci ha messo sicuramente nella difficoltà di dover correre ai ripari. Forse avremmo dovuto sfruttare meglio i terzini che abbiamo servito anche parecchie volte, ma in realtà non siamo mai più riusciti a colloquiare i trezzini esterni in modo da mettere in difficoltà le controguardie avversarie. Ripeto, la partita secondo me è stata preparata bene da entrambe le squadre nella lettura, cioè che torniamo alla domanda che mi hai fatto inizialmente, che ci portiamo a casa un punto importante su un campo di una diretta concorrente ben allenata e noi continuiamo a crescere nel nostro percorso.